Sono state collocate nei giorni scorsi nel bacino lacustre di Santa Croce le nuove boe che indicano il corridoio cosiddetto di pescaggio utilizzato dai velivoli Canadair per lo spegnimento degli incendi boschivi. Come noto, il lago di Santa Croce rappresenta per posizionamento geografico e caratteristiche morfologiche uno dei serbatoi naturali maggiormente utilizzati dal Dipartimento di Protezione Civile nel rifornire d'acqua gli aerei antincendio in caso di emergenze su larga scala. Le nuove boe del diametro di 150 cm di colore giallo sono state posizionate dai volontari di protezione civile del nucleo sommozzatori dell'ANA della sezione di Belluno. Gli stessi volontari avranno l'incarico di verificare periodicamente il corretto posizionamento delle nuove boe e la loro eventuale manutenzione. Il corridoio individuato per le operazioni di rifornimento dell'acqua è lungo circa 4.200 metri e largo 500. Nel caso di emergenza, la sala operativa Antincendi Boschivi della Regione del Veneto contatterà il Comune di Alpago, il quale emetterà un'ordinanza di divieto di attività sul lago che nel periodo estivo, quando sono collocate le boe fisse, sarà limitato alla sola area del corridoio di pescaggio. Le attività natatorie, di pesca o sportive potranno così continuare ad essere svolte ma esclusivamente all'esterno del corridoio e con il divieto assoluto di attraversarlo, sino a revoca dell'emergenza. Durante la stessa fase di emergenza, per garantire la sicurezza e l'incolumità dei presenti, personale incaricato effettuerà un servizio di controllo e sorveglianza sul lago. Il lago di Santa Croce rappresenta per la nostra offerta turistica uno dei punti di maggior forza, soprattutto durante la stagione estiva, ma è necessario che le numerose attività che vi si svolgono godano della massima sicurezza, commenta l'assessore al turismo del Comune di Alpago Federico Costa. Le procedure sono importanti, invitiamo in ogni caso operatori, cittadini, visitatori e turisti ad adottare tutti quei comportamenti responsabili ed attenti che possono aiutarci a ridurre al minimo ogni rischio, conclude l'assessore.